un commento su questa prima di campionato è stata un'ottima prestazione da parte dei ragazzi temevamo il borgo incrociati perché da tutta l'estate che dicono che comunque sia sia la squadra favorita assieme al vecchio castagna per vincere il campionato ma abbiamo fatto una prestazione intensa per 95 minuti anche chi è entrato ha dato il proprio contributo bene poteva anche il primo tempo è finito 1 a 1 poteva finire probabilmente 3 a 1 per noi ci siamo diciamo mangiati tra virgolette un po troppi gol però se siamo un po più cinici e continuiamo su questa strada sicuramente ci potremo togliere delle grosse soddisfazioni